buongiorno ragazzi sono più o meno le 7 del mattino e sto registrando questo video della quanta roba craft perchè oggi è sabato mattino e non l'ho registrato ieri per cui sono un po' in ritarduccio ma mi sono svegliato presto per farvi questo video per cui magari un bacino un pollicino in su me lo meriterei eh cominciamo col trapicchiare un po' di mob e alla ricerca delle borsette almeno per poi aprire le leggendarie dove sono qua non ne ho trovato manca una manca una ragazzi allora oggi faremo qualcos'altro di carino andiamo innanzitutto avanti con le quest ma facciamo qualcosa di carino andiamo a fare l'autosaving l'autosave ma abbiamo bisogno di un po' di roba prima c'è da fare qualcos'altro allora facciamo il grinder il grinder è un macchinaggio dell'aplied abbiamo bisogno di 3 certo squartz 3 stone e 2 ambaradam ok dovremmo avere tutto la stone io l'ho messa qua c'è l'altra volta e ce l'ho infatti la cobblestone, la lena rotella di questo beh dovremmo avere tutto comunque bambete fatto però poi abbiamo bisogno dei bastoncini findus per fare, va bene per fare questa robetta qua eccolo qui il grinder lo poggiamo lo poggiamo io lo poggerei lo poggerei qua perché no poi li mettiamo la manetta eccola qua e con questa ragazzi giriamo allora il grinder non è nient'altro che un maceratore a mano e dobbiamo macerare a mano girare sempre questa manetta quello che voglio macerare è un coal perché mi servirà dopo ok mettiamo il coal e lo maceriamo pampete il problema che ora macerandolo si rompe la manetta guardate se non finiamo di macerare il tutto la manetta continua quando maceriamo l'ultimo la manetta si rompe questa volta non si è rotta vabbè comunque abbiamo questo pezzettino che ci servirà andiamo a vedere adesso l'auto auto sieve che è una cosa che ci servirà molto ragazzi questa qua ci servirà molto ragazzi mamma mia auto sieve auto sieve eh amico man ecco automatic sieve m'affanculo allora abbiamo bisogno di invar eingot che si fa come si fa l'invar porca di quella civetta nell'alloe smelter dovrebbe essere iron e porca porca dovrebbe essere iron ragazzi iron 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 e nickel potrebbe essere tipo nickel però ora non ho ferro ferro è una parola grossa però questo è ferro aluminium ah gai nessun problem faccio un po' di dust anche perché noi abbiamo la quest della dust se vi ricordate noi abbiamo in ecco la dust vedete qua ci abbiamo già fatto un bel po' ci manca il fuoco tre fuochi e 16 redstone per cui con la scusa che cerco un po' di tanto il ferro è il 100% ogni si evvata ci da un iron vedete vediamo un po' e non sono tre iron due manca ancora uno bambete allora vediamo un po' tre iron e un nickel abbiamo detto e non facciamo un cavolo perché mi serve non questo purtroppo sono prove proviamo allora facciamo così vediamo un po' il nickel che ci da andiamo a farne un po' facciamo così ok bambete abbiamo un po' di nickel ci vengono quattro lingotti più o meno andiamo a cuocere quanto qua l'impianto ragazzi funziona non alla grande di più di più guarda qua oh 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 ragazzi ho cotto se vi ricordate due blocchi di di così di nickel si è mischiato con il ferro che già avevo abbiamo creato l'invar fantastico fantastico mamma mia mamma mia allora ci servono quattro lingotti due pepite e e e e papapapam basta quattro lingotti e due pepite per cui cinque lingotti ce la facciamo a fare cinque lingotti mi sa di no mi sa di no mi sa di no beh dieci lingotti vabbè fatto alla fine erano dodici quello che adesso mi sto chiedendo è come si faccia l'electrum che non mi ricordo più l'electrum si fa vediamo un po' silver e oro silver e oro dovrebbe essere la stessa quantità un silver un oro vediamo un po' eh gold 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 ne abbiamo solamente due questi qua ragazzi messi così a pezzettini non bruciano purtroppo allora possiamo fare vediamo un po' due ori due ori e silver ne abbiamo oggi ragazzi è sabato se riesco se lo se riesco vi porto un episodio in più siete contentoli? allora mettiamo giusto coso e facciamo l'electrum giusti giusti quattro lingotti comunque sono due ori e un silver a quanto ho capito facciamo la rotella la rotella la rotella si 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 eccola qui eccola qui via questo ho svuotato un po' la fornace abbiamo un po' di cubi cubi di ferro cubi di copper cubi di alluminium ok dovremmo avere il no aspetta si dovremmo avere tutto l'invar ho tutto facciamo i mcknights ok andiamo a mcdonald prendiamo del filo ne bastano nove nove oi nove ok e facciamo l'ambra ma qua e dai però eh ragazzi chiedo scusa c'è casino in casa ma purtroppo i bambini non sono andati all'asilo che se la botto c'è casino abbiamo fatto l'automatic sieve ragazzi l'automatic io non so se mi sto rendo conto l'automatic sieve che lo andiamo a mettere io lo andrei a mettere qua perché no qua c'è l'acqua non abbiamo chiuso l'acqua volendo qua si può buttare tutto giù lo mettiamo qua automatic sieve ragazzi mamma mia il programma va corrente eccolo qua va rf ok per cui non possiamo utilizzarla almeno che non facciamo l'altra quest questa qua che è quella dei survivalist però finiamo la quest perché no finiamo la quest abbiamo bisogno adesso ragazzi di fare due upgrade lo speed l'upgrade lo speed eccolo qua che si fa con quattro elettrum eccoli quelli là vibrant alloy no no forse meglio farla con questo quattro i varingot che li abbiamo e questo qua che abbiamo il sulfur il coal powered che è quello che abbiamo fatto prima la redstone è un fuoco allora un fuoco la redstone questo qua che abbiamo è un sulfur vediamo un po' se ci viene la sulfur questo qua il fuoco e abbiamo detto la redstone ragazzi me ne vengono due fantastico i quattro invar già li abbiamo uno due tre quattro eccoli qua eccoli qua poi serviva ai quattro ingotto ok quelli sono facilini perché basta prendere abbiamo solamente un oro però porca civetta mi tocca scevare raga mi tocca scevvirizzare mi serve la ma porca porca aspetta non voglio la calamita mi serve mi serve ma guarda non ti rendete conto raga l'oro l'oro almeno non lo so almeno quattro pezzi beh con la scuda faccio anche la quest ora si ridendo e cazzeggiando faccio anche la quest manco a pagarlo sta uscendo l'oro ma vi rendiamo conto vi rendiamo conto io vorrei ricordare ragazzi che l'oro ha un bel 3% e non sta uscendo ma stiamo scherziamo da no veramente ragazzi uno stack di dust uno stack intero di dust niente neanche un pezzettino d'oro neanche un pezzettino d'oro gold ah uno 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 ne ha trovato uno uno comunque dovremmo aver fatto la quest della dust sicuramente l'abbiamo fatta no cosa manca 16 red sono col cavolo col cavolo ce li ho fatta fatta porca lo ho già fatta ora posso tranquillamente salvare ragazzi ascoltatemi bene la gravel perché la gravel ha la stessa percentuale dell'oro il 3% però come dice marco ha più possibilità che esca l'oro perché c'è meno roba da trovare all'interno mentre nella sand nella dust c'è più roba e poi comunque trovando l'oro nella gravel poi lavorandola col martello fino ad arrivare alla dust comunque ci guadagniamo qualcosina in più e conviene sempre cercare qua i materiali con la gravel ricordatevelo a meno che non cercate un materiale in particolare che fa solo o la gravel o la dust o la sand per esempio qua oro manco l'ombra però sono un po' mezzo pirla ragazzi lo so che nei commenti ce l'avrete scritto look ma quant'è pirla mo che lo potevi fare prima avete ragione avete ragione ora lo faccio eh ragazzi se siete arrivati fino a questo punto nei commenti scriviamo tutti assieme assieme potrei fare pirletta i survivalist 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 possiamo farne quattro come la quest richiede allora facciamo subito quattro fornacioli quattro fornacioli subito quattro fornacioli amico man quattro fornacioli facciamo così quattro fornacioli eccole qua poi facciamo quattro un due tre quattro un due tre quattro fantastico facciamo quattro di questi cioè guardate com'è semplice e mi stavo perdendo in un bicchiere d'acqua eccoli qua quattro di questi bambe te poi che oh amico man che mi serve ah due quattro sei otto ferri e due quattro sei otto redstone e otto ferri non li ho beh aspetta mo che mo dire non li ho è un parolone è un parolone anglosassone che viene derivato dalla parola pugliese sinuprise eccoli qua me ne bastava uno facciamo così così bam fatti haga ho fatto pure la questa guarda qua guarda quanto è bello vedo mare quanto è bello spiritanto sentimento e mo io i tubi di i tubi della corrente mo come li prendo ragazzi allora prima di fare questi tubi vediamo un po' ehm facciamo ne otto invece di fare ne ottocento vediamo un po' se fungino eh vediamo se fungino oi amico man ho detto li facciamo tutto non ci facciamo proprio facciamone ancora un paio ok allora proviamo eh perché provare non costa provare allora uno due tre quattro aspetta ora il quarto non lo metto dove lo metto il quarto il quarto dove lo metto io lo metto qua quattro allora uno due tre ok si connette però eh però c'era a dire che si connette ragazzi per cui potrebbe funzionare tanto questi qua si scaldano come tubi però per quello che devono fare allora proviamo a prendere un carbon one carbon please one carbon e potremmo fare un botto di legna e fare il charcoal che forse è meglio allora dividiamo in quattro ok voilà 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 e voilà vediamo un po' se riempiono l'ambaradam fantastico zero RF ottimo non fuoriescono e sapete per quale motivo non fuoriescono perché sono una faccia da pirla allora innanzitutto che questo lo mettiamo uno avanti tanto per vedere se funziona raga poi lo rifacciamo ok ho sbagliato bisogna fare quelli di legno ok io logicamente non ho red sono adesso un due tre quattro di legno vabbè giusti giusti guardate bambete perché il legno è quello che fa fuori uscire la correntole eh vabbè allora guardate fungiosh fungiosh guardatolo è fungiosh e io ci metto dentro a sievare la gravel perché però le va da solo sieva da solo ragazzi il problema è che poi butta fuori tutto dovrei mettere dei tubi che portino fuori scusate mi sta sievando ah ok no ha il suo inventariacchio però consuma un botto di un baradam speriamo di trovare del carbone il carbone dove si trova? in caverna battuto il carbone oh con la gravel c'è pure un bel 13% dai gold ragazzi gold già cominciamo bene vai gold altri oh un altro gold serve un altro gold amico qua di gold non ce n'è e vediamo un po' di qua di gold non ce n'è di gold non ce n'è io inizierei col bruciare questo gold tanto abbiamo già del silver e del sangue addirittura abbiamo l'ho fatto di fare quella ricerca ragazzi allora in poche parole qua sulla lista di ricerca sulla search cliccate due volte col mouse bambete vedete vi seleziona tutte le cose con questa parola che avete scritto voi tipo gold se io scrivessi a seleziona tutte le cose che iniziano per la vedete o che hanno un a all'interno del nome comunque bravo luca dai gold gold un carbone fantastico almeno lo possiamo mettere c'è quattro cose non ce la fanno a mantenerlo guardate ce lo mantengono a malapena e quando fare l'upgrade come succede come si succede eh gold eh gold electrum aspettate oh me l'ha fatto l'electrum oh aga tutto sto casino che mo l'electrum ci stava allora speed dobbiamo fare non mi ricordo più dobbiamo fare questo qua electrum un drunk electrum drunk aga l'ho fatto aga l'ho fatto mo et voilà voilà et when this don't go and go sin daddy to move to move and when this love you I love you ora facciamo l'altro che è non lo speed ma è il fortune mi sembra fortune quello dei diamanti eccolo qua fortune eh vabbè ma serve un diamante ma serve un diamante quattro invaringro quattro invaringro e io ho tre questa è la fortuna 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 mi serve un diamante che non troverò mai il diamante Dove si trova Che cacchio è sta roba Oh mio geek Oh mio geek Elventrade Elventrade Che è uno scrittore Nella gravel L'1% nella gravel Io mi giro l'ho trovato Pamma No Mi chiede la pescazza No Che è sto piccone Lo voglio Lo voglio Non la voglio più Com'era l'invar Ferro e nickel Che poi sarebbe il ferro Mo' vado la E ho trovato il diamante Guardate Guardate Diamante Arca di quella forca Ah no Ha finito la corrente proprio Che poi se notate Non finisce la corrente Che non ce la fanno Proviamo a farli riempire un attimo Vediamo un po' Ecco Questi si stanno riempiendo Perfetto Si stanno riempiendo In un modo Mamma mia Non si stanno riempiendo Non stanno creando più corrente Ma che cacchio Ah perché è rimasto nel filo Nel tubo Ok È rimasta la corrente nel tubo Fantastico Dobbiamo fare un'altra gravel Uè Voglio Guarda quanta gente John Cena John Cena Me lo sento Me lo sento C'è John Cena Me lo sento C'è John Cena Me lo sento Me lo sento C'è John Cena C'è John Cena Johnny Johnny Cena No guarda quante borsette Se esplode un creeper Perdo tutto Perdo tutto Se esplode un creeper Non esplodire Non esplodire Grande Guarda quanta roba Guarda come dondolo Guarda come dondolo Quanta roba Con le gambe ad angolo Con le gambe a triangolo Quanta roba Perché ho visto un cubolo Perché io mo lo uccido Mi ha droppato l'ectoplasmolo E guarda quante borsette Guarda quante bamboli Un due tre quattro raga Quattro raga Facciamo l'acqua quella verde E ora E fu così che trovai il diamante Splash Che palle Comunque abbiamo due quarti di cuore Due quarti di cuore Possiamo già fare un mezzo cuore Guardate Un mezzo cuore Vediamo un po' Bambete Mezzo cuore Fantistico Diamante No Diamante ora Bam In diretta No Che poi il diamante È utilizzato oggi ragazzi L'ho trovato in queste ceste L'ho trovato in queste ceste Che magari c'è un altro diamante No Per sbaglio magari Mo trovo il gol Mo ho chiuso il diamante Trovo il gol Che poi raga Sono un pirla Ho il potenziamento dello speed E non lo metto Scusatemi eh Eh già va più veloce Sinceramente io non vedo Questa grande velocità Ne metto due Ne metto due Guarda Guarda come viaggia E qua il problema È la corrente Perché se io tolgo il tubo Lasciamo riempire un attimo i tubi E poi li metto di colpo Dovrebbe molto andare più veloce Che ne pensate Logicamente Più a pagheri di ci metto Più RF consuma Questo Credo sia logico E minimo Allora Andiamo un po' Qualche questa sbloccata Magari Tipo l'Iron Furnace Per Cosa mi dice Cookie Ah ok Per cuocere gli items Un po' più veloce Mount Poi abbiamo sbloccato L'obsidiana Fantastico Con l'accendino Eh beh Tutto per fare il portale Logico E quando andremo nel nether Potremo finalmente Aprire le chance cube Questa roba è fattibile Della Topiari 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 Vabbè Dei seeds Della dirt Dei seeds Della dirt Beh che si possono fare Beh si possono fare Una parola un po' grossa Abbiamo due dei semi Vanno bene? Vanno bene due semi? Mi sa che non vanno bene due semi No Per niente Attacco Attacco Guardate Bambetti Vediamo un po' Ok No vabbè A parte gli scherzi È molto più veloce Guardate La ricercatura è molto più velocementa Ragazzi allora io me ne vado qua nel campo di mele A raccogliere le mele Per farmi succhi di frutta E nel frattempo mi manda a fanculo da solo Sì no mi manda a fanculo da solo No 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 Non mi credete? Boh guardate Luke Vaffanculo Me lo so detto Me lo so detto Perché ci vuole Ci sta Ci sta Io sono 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 un uomo di parola L'ho detto L'ho fatto Ragazzi lo so che nei commenti Luke Sono un pirlo Un imbecile C'era nella cestica Sei incecato Compriti l'amplifon Per gli occhi C'è cato C'è cato Scemo Doi ti pettini Lo immagino Lo immagino Io c'ho un diamante nella ceste E non me ne era accorto Io c'ho un diamante nella ceste E non me ne era accorto O prima non c'era No Voglio saperlo Voglio saperlo Ragazzi Voglio saperlo Per forza No veramente Io avevo il diamante Tutto il tempo Tutto il tempo Vabbè Con la scusa abbiamo fatto un po' di materiali Che ne pensate Allora abbiamo dell'invar Invar Invar Ci basta un lingot Un lingot Prendiamoci un lingot di linvar E lo andiamo a mettere nella 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 Quando mi vengono i termini Ma fa un culo va Eccolo Aga 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 Ho fatto una cata Mamma Rocar Me ne da altri due Altri quattro Ma non stiamo scherzi E questo perché l'ho fatta? Perché l'industria Ramp Seeds Già la ho Ok Ok Mi ha droppato un libro Sono più interessato al libro Che al resto Che libro è? Della Dell'ingenuorismo Ah vabbè dell'immersivo Ok Il libro dell'immersivo Fantastico Per il momento Non ci serve Che poi dovrei Verne già un altro A qualche altra parte Ma va bene Ragazzi Guardate qua Andia Mo ha trovato il diamante Mo che non mi serve più Ha trovato il diamante Ha trovato Ma veramente Stai dicendo Che poi Guarda Non posso neanche mettere dentro la roba Ragazzi Bambete E mettiamo fortuna Ora con la fortuna Con la fortuna Abbiamo molta più fortuna Di trovare il diamant Il diamant Va bene Va bene Se l'ho stato chiaro Allora svuotiamo In modo che se si inceppola L'abbiamo svuotatolo Io direi Che abbiamo fatto un sacco di roba oggi Ci siamo andati avanti di brutto ragazzi Abbiamo fatto un sacco di quest Ma siamo scherzi Oh aspetta Questo ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Oh ce l'ho Eh mixi ce l'ho ce l'ho No non posso romperla Serve quello di ossidiana Ma in che senso di ossidiana Vabbè lo scopriremo nei prossimi episodi Ragazzi Allora abbiamo le borsette Avete ragione Allora un mezzo biscotto Un cuore Però ragazzi Questo cuore È la presa per i fornelli Perché invece di darvi una vita Ve la toglie Namm Truate Nukatz Automatic Hammer Automatic Hammer Questo voglio provarlo Ma non mi spacca qualcosa Ah Lhammer È Lhammer C'è nel senso Lhammer Automatic Hammer Voi Ah ok Ho capito Ho capito Quello che io faccio Col martello a terra Questo lo fa Cioè io rimetto i blocchi di Di questi per esempio E lui Lui me li smistica No vabbè Ok capito Ho capicciuto Si può fare un qualcosa di automatizzato Infatti guardate ragazzi Gravel Sand E L'ultima Dust Bellissimo Lo faremo nei prossimi episodi Questo qua lo possiamo mangiare Tanto è un biscotto Deficience Mi ha dato When I'm fired You stand You burn And you have proteins Brucio la tua pozione No non ho capito Un bacione e un abbraccio Ciao a tutti No non ho capito No non ho capito No non ho capito Non ho capito Grazie a tutti